Una bella giornata nelle piazze, nei mercati, oggi siamo qui a Perugia, Pian di Massiano per il referendum. Sì, basta un sì per cambiare l'Italia, basta un sì per guardare avanti. È molto importante la mobilitazione, è molto importante per gli iscritti, i militanti, gli elettori ma soprattutto i dirigenti del Partito Anotralico passare queste settimane nelle piazze per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di questo appuntamento elettorale. Per cui avanti con questa mobilitazione in maniera molto trasparente, spiegando le ragioni del sì e spiegando perché chiaramente oggi noi abbiamo un grande strumento, quello di cambiare l'Italia e portarla al passo degli altri paesi europei. Tanti cittadini stanno firmando ai nostri banchetti, questo è sicuramente un segnale importante di fiducia ma bisogna impegnarsi profondamente per portare in piazza le ragioni del sì.